ok vogliamo andare super aggressive o ci poccano loro no ci poccano andiamo col scudo di doran per iniziare ma perché sei così lontano da me no ti sono attaccato non so perché forse per la velocità di movimento vabbè dai non fa niente oggi fate nivi e yumi no non lo facciamo luca oggi non facciamo solo come qui ne facciamo solo due con yumi la prima vogliamo fare dei one shot voglio fare darius con la build letality critico quindi facciamo resumi aspettate poi voglio fare vogliamo fare delle altre come particolari ah siamo una bot stupida siamo una bot stupida c'è c'è del drama anche nel game siamo una bot stupida ragazzi ok va bene è questo che vogliono da noi adesso appena dalla prima morte only ranked i see stupid mid mo questa qua mi dà il buff ok no per fortuna è finito bye bye cazzo gliel'avrei stilato molto volentieri appena dalla prima morte ecco ricordatemi di scriverglielo ragazzi fa la prima kill però no ovviamente non vale più la carella è già morta fanno il 2 prima loro mi sa ok no facciamo insieme però io sblocco la doppia w non la è tu c'hai il mana flow giusto? a meno quello trascendenza tempesta imprengente soffro ti do molto più ap ti do molto più ap eh si ma non l'es vabbè va bene va bene dai non è un problema ragazzi ce la faremo anche con la yumi dei balocchi bravo bravo tanto la mira ce l'ha l'importante è essere bravi l'importante è quello poi questo lucian per esempio vedi spara ai minion invece che sparare a me quindi a me va benissimo l'importante non è la runa è come saperla usare esatto e sapersi adattare puoi anche avercelo piccolo ma se lo sai usare ragazzi eh sempre quello concetto vai vai oh oddio lucian no non sono al 3 per un minion cazzo guarda lì sta barra quasi completa vabbè ok ora sono al 3 e lui non ha mana muo inizia la strage lucian è morto questa è slowata vai madonna ti sbatto come l'uovo via sbattuta perfetto ragazzi benissimo benissimo non è a posto è la prima parte è la prima parte è il falco bene 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 usciamo abbiamo già fatto la doppia only rank ed i si stupid bot si come no 2-0 parla adesso stronzo non dite niente ad ecco 2-0 stupid bot cheat ecco non dice niente questo ecco stai zitto ecco muto come come una balena ecco non dico altro insultare ecco insultando bastano vederti illuminato dalla luce solare eh lo so ragazzi ma scusate ma normalmente quando andavo là alle 18 normale aveva sempre c'era sempre un po' di luce ma non così tanta leggermente meno ma era sempre così vabbè comunque ok capisco non siate abituati oh la luce del sole a me non dà fastidio o forse sì vedete abbasso la tapparella abbassiamo la tapparella così facciamo free content metto una bordina dopo l'abbasso dai ma comunque non ti consiglio di curarmi anche se solo per ingaggiare perché mi diamo in speed tanto ma non hai purtroppo super mega mana quindi aspetta proprio che ecco questo fa adesso buono muore di di geleno lì di passivo non si dice perdere si dice essere scammato attenzione e anche lui vuole morire ancora lì eh purtroppo va bene va bene dai vieni pantheon credici forse arriva kali no 4-0 ragazzi appena facciamo il 6 qua esplodiamo ancora di più ah no va bene va bene andiamo oh oh forse abbiamo esagerato ah ok 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 va bene va bene va bene è meglio io sono più contento sai dai lucky la pantheon sergish peccato va bene no ma era meglio se la prendeva pantheon perché così pantheon fa perdere il nostro team capito infatti ha preso lo shutdown pantheon da me e quindi se perde il nostro team così è meglio per noi per free content per la live dopo sembro più forte vai ho già la draktar che è un item che ci piace ovviamente l'unico streamer è un mondo che vuole vedere il proprio team perdere ci facciamo un'altra penta se continuiamo così sì sì Luca vedrai le ruote sono disattivate sono io stonzo che non li fa riscattare no dovrebbero essere attive controlla codice ah no sono disattive codice attivale moderatori hashtag mod in chat ragazzi moderatori attivatevi va bene bravi ragazzi ora sono riattive vi ricordo che dopo domani c'è giveaway l'ultimo giveaway di marzo uno clip bravo bravi ragazzi uno fa i pronostici uno fa le disattivazioni oh bravo onyx questi sono titoli che mi piacciono veleno eh vabbè raga io lo chiamo veleno soprattutto l'effetto è quello danno nel tempo beh io faccio i minion non è un problema lo fanno dopo un po' io caro Lucian così tu perdi i minion mentre sei impegnato ad attaccare noi sta arrivando Swain dalla top con l'exhaust eh si si lo massacriamo dov'è Darius oh dov'è Darius oh dov'è Darius dov'è Darius Darius vuole la pentakill Darius vuole la pentakill la esige mi curi vai a tankare vai a tankare vai a tankare Tanca, 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 tanca Ah Ale Eh, voglio sentirle solo della penta Vaffanculo Mi sembra che è spionato prima È spionato prima Swain Quasi Quasi Due meme in uno Va bene ragazzi, è stato un piacere E niente, sto spionato troppo presto Troppi meme in questa live ragazzi Troppi meme Eh, facciamo il collector Sono pronto, let's go Grazie del pollo, Fili What? Ma Luca Qua qualcuno vuole superare la Golico Ci sta andando dritto proprio Dritto per dritto Luca 10.000 bits Oh porca in chat ragazzi Oh porca in chat Per queste donazioni Di nuovo Va bene Grazie mille Luca Mamma mia Altro che Eh, via l'hanno già usato Siamo pronti, siamo pronti Ah Eh, dov'è Daris Allora ecco Stupid bot lane E mi fa pure il ping interrogativo lì Dai zitto ecco Zitto Va bene E siamo solo con un oggetto e mezzo ragazzi Solo un oggetto e mezzo Luca è stato contento Perché ha detto Ah, esce di nuovo la pentakill È uscita tipo quasi una pentakill Non è uscita la pentakill Però Luca ha detto Dai dai Cugino ci penso io Tirarti su di morale Ti hanno scammato la pentakill Riot Games India Company Grazie Luca Darius Yumi Go play ignore elo È questo il mio elo Io sono Vivo per giocare qua Nel bronzo È questo il mio elo Strasenite qua Vabbè E poi sono i primi A andare a vedere gli streamer Che smarfano Che fanno road to challenger Da livello 1 Eh Però va bene A me non ne facciamo un contenuto Diverso Vai ci sono Divertente Non ho ulti adesso Vieni qua Vieni qua Signora Kali Vieni qua È un po' troppo lontano Eh vabbè dai Facciamo fare del coaching 9 icone Eh sì Hai sbracolato l'icone E anche dei E anche delle emot Se vuoi Non so quante C'è Cugino Laggolico Vuoi sarle molto Il tuo rivale Eh ma potrebbe sempre diventare Cugino Luca 96 No 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 E vabbè Cazzo non l'ho preso Cazzo me l'ha rubata E vabbè niente Peccato Allora niente Difficile da battere Questa combo È molto forte Cazzo Cosa hanno fatto di male Per beccarsi Darius Jume E questi poveri ragazzi Allora in poi Quando vogliamo Trajardare Prendiamo questo Eccoci qua Ma non mi è partita la Q Cazzo Peccato Non c'era la Q Non so perché Allora avevo fatto Eh avevamo fatto ragazzi La Sanguine Blade L'altra volta Non me lo ricordo più Codice puoi riguardare la clip Così guardo la build precisa E cerchiamo di farla Se non sbaglio Però era Collector Ho fatto la Sanguine Blade Codice vai Veloce Guarda Codice efficiente Codice efficiente in chat Ragazzi Hashtag Codice in chat Forza dategli la carica Sì ne buono Sì fili Se vuoi trollare un po' Full letality Anche lui è potentissimo Però non con la build Crit let Poi nel dubbio Faccio il Collector La Sanguine l'avevi buildata Ma non credo per seconda No invece era per seconda Probabilmente Vabbè senti Facciamo Collector Collector E poi andiamo di Critico E prendiamo Invece che Invece che questo Possiamo fare questo Vai Andiamo Aspetta aspetta 13 gol A questo punto Così compriamo L'Essence River E quando premo W Proprio qualcuno Sparisce E faccio il critico Con la W E faccio pure L'Infinity Proprio spariscono tutti Ok oggi proviamo Bisognerebbe vedere Il play dalla loro parte Vedere cos'hanno visto loro Perché appunto Darius Scompare Tesorino Buongiorno Via Non farti toccare da Darius Darius è il killer Voi dovete scappare Ragazzi Dead by Day Dead by Day Dead by Day Su League of Legends Vabbè Vabbè Mi piace questa cosa Non farti toccare dal killer Il killer è Però un buff Chiamato Yumi The killer League of Legends Ma è Dead by Day In realtà Va benissimo Mi piace Come stile Ok Mille e due Ce l'abbiamo Darius Ancient gold What happened During placement Really unlucky Really unlucky Va bene League of Legends My slender Fai Assassin's Creed In Infinity Se vuoi fare il collector Sì è quello che sto facendo Infatti Comunque La mia Yumi Naran Sta raggiungendo record Superavo i mille Di potere magico Sopra Yumi o Pantheon Povera Manag Sono contenta per te Contenta Contento scusa Vabbè Tanto è uguale ormai Siamo nel 2021 Il sesso è un'opinione No Ma la cugina sta prendendo il potere Ciao Gamma Buonasera Siamo pronti Tanto non ci vedono Due persone sono Oh Dov'è Dov'è Lucian So che qua Ragazzi però così Se flashate tutti Eh C'è il killer Ragazzi c'è il killer No Dov'è Daris Ma cosa è successo ragazzi Non è morto Penta 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 Basta Portami addosso Eh non potevo Porca puttana Sono tutti Uno bot Uno mid Andiamo qua Compriamo Compriamo Quanto manca All'infinity No non vendo il trinket Non dà soldi Bot premade Stupid bot Alessi invece chiede Freemade Guardami che lezzo di merda Mamma mia Va bene Mi manca poco al Gioco senza trinket Basta Nuova challenge Non sa cosa vuol dire OFC Voi sapete cosa vuol dire In chat ragazzi Vero che lo sapete Certo Comunque Il mio Dark Harvest Ha più stack Di quello di Echo Ti tenevo a dirlo Fallo vedere in chat Pingalo pingalo Of course Come faccio Non posso spaccare Le stack Come no Guarda Un po' così Ah no Forse Non lo so Allora io ho l'infinity Andiamo a Unchottare tutti Ma quante ne hai? Sei stack Sei stack Lui ne ha 5 Eh va bene Eh si E che armor qua Oh Ma dov'è Rell? Pantheon? Cerco Pantheon Pantheon Si è venuto a gambe Dov'è Pantheon? Calacca Fuggiti tutti Ok ok Siamo un pochino Fiddati Forse Forse servirebbero le scarpe Completate Dai compriamo le scarpe Complete O quelle muovi in speed Io mi faccio il michel Così Mi sa che faccio quelle muovi in speed Vai Poi sono più veloce Non scappano più E danno Ci penso io Ciao Panda Rosso Ciao sono io Ciao E come ogni marzo vengo a trovarti Ciao 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 una fexato Buonasera Dal tab forse Non so Darius comunque si è un generatore di clip Proprio So ragazzi E sono solo al 12 Cioè ecco un livello sopra di me Vi vedete conto Vai che tutto il team perde Si che bello Adoro Ragazzi è arrivato Darius E adesso Rao spingimi verso di te Buongiorno Ok forse moriamo Ok Un po' troppi cc Eh ho usato ma Si 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 ma va bene Ma va bene Così la partita dura di più Dura di più Jungle Good job Mi sembra che mi vogliono Gli abbiamo lasciato troppo tempo Per prepararsi al nostro invade Ah ma Cali non ha il flash Oh porca Dai che ce la fai Vai sotto tor Ci arrivi Non ti raggiunge Guarda lì Cosa vuole fare Schiva la E Bravo Via Sotto tor Si è 1-6 E gli ha descritto good job Quanto corre? Sto arrivando Non sto arrivando Corro Non sei arrivato fino anche Te lo cidi pure si Ma però Ma nel fleet Ok no Va bene va bene Sto arrivando Eh ma se fai così E' un po' pazza eh Un pochino avanti Senza vision Va bene Dimostrerò Che non è Yumi A rendermi forte Ops Ha fatto puff Va bene va bene Ha fatto puff X in chat Per pulire Ragazzi Che non è Yumi Sto arrivando Queste cose Sta troia Via Ecco mi stava lasciando pure la kill Tanto ecco Ha capito Ha capito Mi è rimasto male a vedere tutti quei danni Pensa quanto c'è rimasto lui Che è stato one shot Va bene Va bene No raga Oh Rotto Rotto Vai ci sono Incrementiamo questi danni Ma Sparito Sac Niente più torre Niente più rel E niente più a kali E ora spettiamo Swain qua Ci arriva Ci arriva si No Multane di merda Troie bastarde Non è possibile Cazzo Niente raga Frastigliosi Niente Non me l'hanno voluta dare Vabbè Dovevamo proprio prenderci a di cattivele Voleva solo una penta Bene Nice game Bella partita Eh sì Allora invece facciamo la troll vero? Erano un po' di danni Va bene Comunque le combo con io mi sono sempre troppo divertente Ragazzi eh I one shot con Yumi Va bene Adesso facciamo Adesso facciamo una troll pick E dopo facciamo Kane Full letality Con Yumi sopra Già sapete bene Quanti danni fa Kane Blue Full letality Immaginatevi se ci piazziamo sopra Yumi Ok Dopo Dopo ci divertiamo Però adesso facciamo Facciamo Riven Ivern Gioco di parole Ok Perché vi era piaciuta molto L'altra volta quando è stata proposta Quindi Riven Ivern Buongiorno 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 Buongiorno